Commentavamo con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi in studio le difficoltà che ha avuto il Pescara contro questa organizzazione della Carrarese. Che cosa è successo questa sera? Noi non abbiamo avuto un buon impatto con la partita. Pronti via, una serie di errori tecnici, di controllo, distribuzione del gioco. Loro ne hanno commessi molto meno, però abbiamo provato ad aggredirli. Questo l'abbiamo fatto quasi sempre bene. Il problema era, nei break che facevamo, nel riproposto gioco, troppo spesso, parlo dei primi 15-20 minuti, troppo spesso abbiamo commesso errori tecnici, perdendo immediatamente la palla. Poi siamo migliorati, da questo punto di vista abbiamo giocato con maggiore coralità e con maggiore qualità. Abbiamo sblocato la partita, abbiamo creato delle situazioni prima di fare gol in cui potevamo anche passare in vantaggio. Non è che abbiamo concesso chissà che cosa, loro sono bravi a palleggiare, perché comunque dal punto di vista tecnico è una squadra forte. Poi questo 4-3-1-2 con l'uomo che galleggiava fra le linee. Lo soffre troppo spesso il pescato. Alcune volte lo abbiamo subito, ma tutto finiva lì. Non è che sono stati mai pericolosi. Il problema è l'inizio dei due tempi, primo tempo e secondo tempo, perché anche nel secondo tempo non abbiamo cominciato bene. Abbiamo difeso bene, loro hanno cercato di alzare il baricentro, ma abbiamo difeso bene ai 20 metri. Però poi sui brecchi o sulle chiusure difensive che facevamo abbiamo cominciato a perdere di nuovo un'infinità di palloni gratuitamente, in un modo maldestro e questo ci ha fatto stare per qualche momento in più lì. Poi di nuovo siamo cresciuti, poi in una situazione in cui diciamo che la partita la stavamo controllando, abbiamo commesso un errore, perché da una possibile offensiva nostra, Zita si è andata a infilare in mezzo a due in area di rigore, c'erano scoperti sul lato sinistro, loro potevamo fare una scelta migliore. Ha fatto una scelta, Zappella poteva ricevere danzita in quella situazione, poi la palla l'ha presa il portiere, poi l'hanno giocata subito, poi comunque eravamo in chiusura. Il gol è stato anche una coincidenza fortuita perché avevamo chiuso bene, perché ci eravamo comportati bene dal punto di vista difensivo, soltanto che la palla è stata poi deviata involontariamente da Veroli, gli ha rimesso uno di loro in una situazione in cui ha potuto dare palla all'altro. Ecco, quindi c'è stata anche una deviazione, così come nell'azione del nostro gol. Un fatto episodico che l'azione l'ha fatta sviluppare e devolvere in un modo diverso, ma a parte queste cose qui, la Cararesa non ha rubato nulla, noi siamo stati un po' il di sotto delle prestazioni che abbiamo fatto ultimamente e forse abbiamo pagato qualcosina dal punto di vista fisico, perché poi comunque abbiamo speso dal punto di vista dell'intensità e dal punto di vista dell'aggressività, ci siamo quasi sempre comportati bene, è mancata un po' la proposta, quando fai break devi riuscire a ripartire con più qualità, più pericolosità. Le chiedo due cose rapide io prima di una domanda da studio, Auteri. La prima è che se andiamo a guardare a conti fatti cosa è successo nell'arco dei 90 minuti, il Pescara a parte il gol di Pompetti ha avuto quell'occasione con Cernigò, il sinistro alto, e poi solo quel tiro cross di Rasi nel finale, mentre la Cararesa comunque con Battistella nel primo tempo e prima del pareggio è stato superlativo Sorrentino, ha spaventato più del Pescara. Sì, ma è vero, questi primi 15-20 minuti noi abbiamo perso tanti palloni velenosi giocando, abbiamo commesso parecchi errori dove potevamo fare decisamente meglio e quindi abbiamo concesso qualche situazione in cui loro sono stati pericolosi, anche se poi tutto si è limitato a qualche conclusione dal limite, parlo dei primi 20 minuti, poi invece abbiamo migliorato questo aspetto, abbiamo cominciato a giocare di più e con maggiore continuità, abbiamo chiuso un po' negli ultimi 20 metri evitando che potessero ripartire, questo l'hanno fatto pochissime volte e alla fine eravamo passati in vantaggio anche meritatamente perché insomma eravamo cresciuti, poi però cominciamo il secondo tempo e rifacciamo gli stessi errori di scelte, di controlli, cose che di solito non facciamo, però ripeto, al di là di queste cose qui non abbiamo fatto una buona partita e la Calarese comunque il punto l'ha meritato. Le do l'auricolare, le faccio l'ultima mia flash, è d'accordo che probabilmente quando ha schierato Clemenza dietro le due punte è stato quel quarto d'ora in cui il Pescara ha avuto più possesso palle e ha un po' messo in difficoltà la Calarese? Ma non lo so se è questo, abbiamo provato a cambiare in tanti modi perché abbiamo provato a vincere la partita, poi complessivamente nell'arco della gara siamo cresciuti negli ultimi venti minuti anche se poi il gioco viene spezzettato, si gioca poco, abbiamo alzato il baricentro con continuità, ci abbiamo provato fino alla fine, sì a volte sbagliando delle scelte, a volte senza grandi lucidità, però un po' abbiamo accusato tre, quattro giocatori che dal punto di vista fisico non stavano benissimo e questo è anche abbastanza normale perché poi soprattutto sugli esterni spendiamo, Sida ha fatto una buona gara però poi è durato 60-65 minuti, Zappella ha fatto una buona gara ma è idemme pure lui, abbiamo cambiato, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo fatto una prestazione al di sotto di quella che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Faccio fare una domanda a Fabio Ferraresi, aggiungo soltanto che al 91esimo c'è stato un grande spavento perché c'è stata una penetrazione in area di Tunjov, Tunjov che dir si voglia a Estone, classe 2001 proveniente dalla spalla, che ha illuso la marcatura di Giannis, ha messo la palla in mezzo, più di uno spavento c'è stato, più di una prensione. Allora Fabio? No, io mister, prima che lei arrivasse da Enrico, ho sottolineato il fatto che al di là delle difficoltà che la Carrarese ci ha messo in difficoltà dal punto di vista del non possesso palla, oggi il Pescara ha fatto molto meno in fase propositiva e ricollegandomi a quello che ha detto lei nella conferenza pre-partita in cui aveva un po' di paura sotto il punto di vista mentale ed era tranquillo dal punto di vista fisico. Io credo che oggi il Pescara abbia fatto fatica a proporre anche molto perché dal punto di vista fisico non l'ho vista benissimo, non so se lei è d'accordo. No, ma l'ho detto prima, probabilmente qualche giocatore dal punto di vista fisico non stava benissimo perché Dussi, perché Ferrari, Raudi ha fatto una discreta partita, Zappella alla fine è calato, Insita che era rientro, anche lui è calato, vabbè Memo Schaia ha dovuto chiedere il cambio, anche Pompetti nel secondo tempo ha diminuito il raggio di azione, è vero, qualcosina l'abbiamo pagata dal punto di vista fisico, però se la mente è libera, se si è determinati, se si vogliono ottenere le cose insomma si possono superare anche delle difficoltà, non siamo stati così determinati e così intensi sempre e così fra virgolette cattivi nel voler ottenere i risultati a tutti i costi, perlomeno non lo siamo stati tutti e questa è una cosa che può succedere, perché può succedere, diciamo che è avvenuto come ha detto lei per un fatto fisico, però Daccararese non ha rubato nulla. No, dico questo mister perché, scusa Enrico che finisco e mi permette di fare questa considerazione perché il Pescara secondo me nell'ultimo periodo ha fatto molto bene perché riusciva ad accompagnare la relazione offensiva sempre con 5, 6, 7 uomini e oggi questo si è visto poco e quindi presumo che sia fondamentalmente una questione di condizione fisica. Ma sa, primi 15-20 minuti del primo tempo, inizio del secondo tempo, quando chiudi le azioni difensive, quando riesci a fare break e perdi la palla perché subisci la controaggressione, in situazioni in cui non la devi subire perché sbagli il controllo, perché sbagli la scelta di gioco, perché sbagli il gesto tecnico, questo aumenta quello che lei ha detto e questo è quello che abbiamo fatto. Potevamo essere un po' più immediati, sbagliare un po' meno nella riproposta gioco. Quando sbagli la prima scelta, dopo che fai break, è difficile accompagnare l'azione con 5, 6 giocatori, proprio per questo motivo e quello che un po' c'è successo a Viterbo, c'è successo inizio gara oggi, c'è successo inizio secondo tempo.